Ok signori, un bel ritrovati, sempre erano qui che vi parla, appuntamento del giovedì Dunque, soldi doppi e sconti, anzi soldi tripli e sconti questa settimana Bene sotto alcuni punti di vista, male sotto altri, benissimo dal punto di vista degli sconti Male 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 dal punto di vista dei soldi doppi Entriamo subito nel dettaglio per avvedere, abbiamo la Shotaro come veicolo del podio del casino Quindi abbiamo un bellissimo veicolo a disposizione Veramente veramente molto bello che spero di vincere persino io così almeno non lo compro e mi risparmio giusto qualche milioncino Poi abbiamo il 40% di sconto sui business del motorcycle Quindi coca, metanfetamina, erba, banconote e documenti falsificati Abbiamo il 40% di sconto sulla Locust che sapete che è una tra le mie macchine preferite Abbiamo il 35% di sconto sulla Rampa Rocket e sull'Akuchu Drag che è una delle moto più brutte che abbiamo mai visto su GTA E dopodiché, la chicca, abbiamo il 30% di sconto sull'Oppressor Quindi attenzione, qua si fanno grandi 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 sconti interessanti Abbiamo soldi tripli sulle modalità, sulla modalità scia mortale che è noiosa da far schifo A tale in alto piace invece, non so come faccia a piacere E lotte tra business Quindi, detto tutto ciò, eh Reno, come facciamo questa settimana? Molto semplice Allora, soldi tripli su scia mortale Se vi piace fare questa modalità, fatelo, va bene Non c'è alcun problema Altrimenti avete le lotte tra business Non mi ricordo quanto pagano Però le lotte tra business servono per aumentare le scorte del net club Quindi se avete le scorte del net club Molto bene, vi fate soldi tripli E in più fate le scorte del net club che potete vendere Ora, c'era un trucco per fare le lotte tra business Le lotte tra business partono ogni 15 minuti in una sessione pubblica O anche privata Purché ci siano almeno 3 persone dentro E che non facciano parte dello stesso CEO ed MC Quindi siete 3 amici, 3 CEO diversi o 3 per i fatti propri E di conseguenza parte la lotte tra business Potete fare la tra di voi Dice, eh, voi state dentro a giocare, fate le vostre cose Magari una sessione MTU da soli E io quando esce la lotte tra business me la faccio per fatti miei Mi prendo i soldi tripli e continuo il net club Magari gli altri si fanno, cosa ne so, le preparazioni del casino E un altro si fa import-export Quindi siete in 3, ognuno si fa 3 soldi fatti diversi Ma continuate, ok? Ha molto senso Potete fare così Fate import-export, import-export, import-export Casse, casse, casse Quando esce la lotte tra business Stoppate tutto Lotta tra business la fate Altro quarto d'ora avete per fare missione e quant'altro Andate avanti E questi sono i soldi tripli Dunque, gli sconti più belli sono l'oppressor Se non ce l'avete andate verso l'oppressor Costa 2 milioni e 47 mila dollari Quindi andate verso l'oppressor, ok? E poi avete, avete, avete I business del motorcycle club I business del motorcycle club Sono in sconto, ok? E anche gli upgrade sono Quindi anche le migliorie sono Attenzione, in sconto Quindi non solo il business ma anche le varie migliori e attrezzature, eccetera Quindi vuol dire che se dovete per caso Portarli in città Magari avete dei magazzini fuori Volete portarli in città per averli più vicini Controllare tutto in città E poi vendere fuori in tranquillità Potete farlo Io credo che farò così per i miei magazzini Altra cosa Se vi mancano dei magazzini Prendeteli Se alcuni dovete spostare Benissimo Se dovete cominciare Avete dei grandi sconti Anche in città Potete già comprarli in città Li pagate come quelli fuori A prezzo normale O anche di più volendo Però almeno sono già in città E potete stare Potete dormire sonni tranquilli Senza dover andare ogni volta in culonia Presupponendo che magari Non avete neanche l'oppressor Cosa dire Cosa dire Cosa dire Sì Vi ricordo che i business Li potete anche comprare Allestire E basta Lasciare lì a morire E collegare al net club Di cui abbiamo Le lotte tra business Che pagano triplo Ok Quindi fondamentalmente È tutto È tornata questa cosa Solo business del motorcycle Oppure business Più net club Fondamentalmente avete questo E l'oppressor Per fare il giro Avanti e indietro Su tutti i vari business Insomma Questo è fondamentalmente Quello che Che dovete fare Se volete fare le Come si chiama Le prove a tempo C'è una forza in cudo E c'è la prova a tempo RC Ad un sito di costruzione Ok Provate a fare le prove a tempo Pagano bene anche quelle Però fondamentalmente A livello di soldi Doppio triplo che sia È una Una settimana abbastanza Abbastanza piatta Molto bene anche la Shotaro Come podio Perché la Shotaro È una moto Veramente veramente veloce Se non avete i dindini Per comprarvi un oppressor Comunque la Shotaro Vi permette di fare Grandi distanze In brevissimo tempo È una moto Veramente divertente Per cui Non andate per forza All'Oppressor Se non avete soldi Se dovete fare Prima altre cose Tipo import export E quant'altro Se avete la Shotaro È comunque un veicolo Stravalido Stravalido E E quindi niente Direi che abbiamo detto Ha detto veramente Veramente tutto Io domani uscirò Con il video Di giornata da Money Grinder Dove Anch'io Sposterò dei magazzini Quindi da Dall'esterno Da Blaine County Lo sposterò Internamente allo Santos Così puoi aver tutto vicino Una volta per tutte E non dover più uscire Uscire solo per fare Le vendite Sapete che ho Tipo il bunker in Culonia I magazzini in Culonia Voglio spostare Tutto il più vicino possibile Così poi Io il deserto Non lo vedo più E siamo Siamo fondamentalmente a posto Quindi ragazzi Direi che ho detto Veramente veramente Tutto Adesso sapete cosa fare Io vi auguro una buona settimana Di Money Grinding Ci vediamo In live Tra pochissimo Se mi state guardando Dalle 14 alle 20 Dovrei essere su Twitch Farò 6 ore di live Con Warzone E poi con Apex Quindi vi aspetto lì Altrimenti ci vediamo Domani sera In live Su GTA Come al solito E poi ci sarà il video Giornata da Money Grinder Credo veramente Di avervi Credo veramente Di avervi detto tutto E alla prossima 3 2 1 Da Roa Alla prossima